Ciao a tutti, video di presentazione del corso di Bootstrap da adesso disponibile sul sito codegrind.it quindi qualche minuto per spiegarvelo come al solito, quindi se siete interessati guardate questo video vi spiego un po' com'è e potete capire se fa al caso vostro quindi se premete qua o andate su corsi avete poi il corso di Bootstrap vediamo su cosa si basa, sono 8 ore in cui andiamo a spulciare praticamente la quasi totalità della documentazione salto alcune parti che sono praticamente inutili e di cosa parliamo? allora, abbiamo capire l'installazione di Bootstrap perché? perché se andiamo a vedere abbiamo diversi modi per installare sono diversi modi che possiamo utilizzare appunto, quindi cominceremo con quello dopodiché vedremo la differenza con Tailwind perché? perché Tailwind è un altro grande framework che ho già trattato lo trovate qua, eccolo qua sotto quindi vedremo la differenza con Tailwind l'abbiamo trattata anche con Tailwind in cui parlavamo della differenza con Bootstrap ma giustamente devo parlarne in entrambi da lì cominciamo a vedere i concetti fondamentali poi adesso li vediamo rapportati la doc quindi parliamo dei concetti fondamentali di Bootstrap quindi quali sono le cose che dobbiamo necessariamente sapere per cominciare a lavorare con Bootstrap per capirlo veramente a fondo dopodiché vediamo come creare i form i vari componenti che abbiamo a disposizione quindi userò un approccio in cui li vediamo prima così come molta della roba che c'è in Bootstrap essendo comunque abbastanza semplice nonostante magari siate dei principianti cosa faccio? faccio prima tutta la carrellata teorica quindi vediamo i vari componenti alert e quant'altro ne parliamo teoricamente dove li potreste usare come si usano li vediamo sulla doc e poi a fine di ogni sezione abbiamo l'esercizio in cui mettiamo tutto insieme quindi tutti i componenti a disposizione andiamo a capire le classi Utilities e Helpers abbiamo poi un accenno sulla configurazione che non ho trattato qua su YouTube poi abbiamo il classico la classica sezione sull'ecosistema anche se di Bootstrap c'è poco attorno rispetto a Tailwind o comunque rispetto ai linguaggi di programmazione quindi Python, JavaScript eccetera quindi è comunque abbastanza veloce però giusto per darvi un'idea di cosa c'è oltre e poi abbiamo l'esercizio finale in cui andiamo a prendere una landing page e cerchiamo di crearla esclusivamente utilizzando codice Bootstrap quindi solo le classi dei componenti gli Helpers, le Utilities andrò a scrivere letteralmente 10 righe di codice CSS tutto il resto sarà fatto con Bootstrap perché è quello che ci interessa capire come funziona e come possiamo semplificarci il nostro CSS con questo framework siamo qua per impararlo apposta se andiamo a traslare il tutto sulla documentazione faccio sempre riferimento alla doc come faccio riferimento sul corso qua su YouTube perché? perché è il vostro punto di riferimento che poi l'andrò a tradurre in italiano qua su Codegrind è un altro discorso ma per ora comunque questo sarà il vostro punto di riferimento quindi abbiamo i fondamentali che sono questa sezione con il layout e il content poi questo qua invece sarà il customize e la personalizzazione che vedremo più avanti l'abbiamo visto qua sotto abbiamo poi tutta la sezione dei form come abbiamo già detto sezione dei componenti che vediamo praticamente tutti abbiamo poi gli helpers e le utilities gli helpers li faremo molto veloci e lo spiego bene nel corso perché comunque è roba che potreste utilizzare e non utilizzare daremo molto più peso alle utilities e poi sostanzialmente finisce qua quindi questa è tutta la documentazione di Bootstrap che andremo a vedere di base la quasi interezza quindi non c'è molto altro da dire Bootstrap è un framework abbastanza semplice da capire abbastanza diretto quindi il corso sono otto ore però ripeto riusciamo a vedere tutto se siete indecisi sul perché dovreste guardare Bootstrap o meno non mi interessa che sia sul sito col corso completo oppure qua sul canale gratuito però guardare Bootstrap è comunque importante se volete fare front-end se siete front-end eccetera perché in Italia ancora la stragrande maggioranza delle posizioni che vedo aperte sono sempre con Bootstrap Tailwind si nomina poco quindi sicuramente Tailwind personalmente se io non lo sapessi Tailwind lo imparerei perché mi piace o perché potrebbe piacermi però Bootstrap lo imparerei per questioni lavorative quindi per ora Tailwind è un hobby tra virgolette nella speranza che poi mi serve in futuro mentre invece Bootstrap è richiesta corrente ok? come fu Flutter per me all'epoca imparai Flutter nel 2018 più che altro per hobby però effettivamente cominciò a diventare abbastanza richiesto dal 2019, 2020 e quant'altro quindi niente per chi per chi pensa che questo corso faccia il caso suo io vi aspetto sul sito come al solito vi ringrazio in anticipo per la fiducia e niente ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao